Col fazzo letto in testa sei in eulta Dai monti e dalle valli verso il piano Quel mazzolini di fior che vu ti mano Riempie di gioia ancora la tua bella Riempie di gioia ancora la tua bella Allegra, heute sind wir bei Besuch bei der Familie Delea Nussi partner in der Fattoria Amorosa David, danke vielmals für deine Einladung Wie läuft Erntner im Moment? Ciao, buongiorno a tutti Ciao Damian, grazie di essere qua La vendemmia ha cominciato bene Una buona qualità Ci permetterà di produrre sicuramente dei berrossi Speriamo gli altri tanto anche bianchi C'è una maturazione buona Abbiamo già vendemmiato tutte le uve bianche Abbiamo iniziato proprio in questi giorni Ieri per l'esattezza con le uve da rosso E stiamo svolgendo la vendemmia regolarmente Siamo venuto per anche controllare un po' il prodotto Che abbiamo sulla pista d'inverno Come lavora quel prodotto per il momento? Dai, ci siamo Stiamo facendo il nostro meglio Per soddisfare i vostri palati sopraffini David, la famiglia Delea È già dal 1983 produttore del vino È già dieci anni sponsor sulla pista di Bop Mi puoi dire qualche parola Perché siete sponsor sulla pista di Bop? Come hai ben detto Dal 1983 mio padre ha incominciato questa avventura La sua carriera, la sua passione Il lobby, chiamiamolo come vogliamo Tanti sacrifici, tanta passione L'hanno portato a questo successo Perché siamo alla pista di Bop? Abbiamo creduto nel progetto Dieci anni fa Quando è cominciata la nostra collaborazione Penso l'anno prima C'è stato un incontro tra il tuo predecessore E mio padre Dove è stata fatta una discesa col Bob Abbiamo pensato che Era un'ottima collaborazione Visto che il vino è natura La pista di San Moritz è fatta in modo naturale Quindi si sposano bene le due insieme David, sei dalla seconda generazione Dalla ditta Delea Sì esatto Io e mio fratello siamo la seconda generazione Che lavoriamo insieme Cerchiamo di mandare avanti Ciò creato da mio padre I brand nostri Diciamo più conosciuti O più noti Ad esempio lo Charm Il nostro spumante Fatto con un chardonnay e pino nero Poi abbiamo il nostro carato Il carato riserva La linea dei carati Le grappe E non da dimenticare Per condire anche un po' I nostri piatti L'aceto balsamico Prodotto con la uva americana Tipica uva del canton ticino È proprio una bella collaborazione Grazie anche da nostra parte Abbiamo in primavera fatto un evento insieme La prima volta Sull'ubileo Come era quello evento? Ma dai Io ho vissuto una bellissima emozione C'era tanta gente Tanti partecipanti Correggimi se sbaglio Ma mi sembra 220 partenze Insieme a Marcel Rohner Che ha fatto un lavoro strepitoso Ha invogliato la gente E i partecipanti usuali O abituali O nuovi Alle cantine aperte Hanno apprezzato molto Questa iniziativa Da parte nostra Per i nostri aspettatori Se qualcuno vuole Comprare il vino O il charme O il crap Di voi Dove si può andare A comprare i vostri prodotti? Prima di tutto Si può visitare Le shop Il sito internet Se no siamo comunque Ben distribuiti Sul territorio svizzero E per chi è in Ticino Non rinuncia A venire a trovarci L'enoteca è aperta Da lunedì al sabato Fino alle 4 del pomeriggio E per chi è in Ticino E per chi è in Ticino Un sacco Grazie a tutti.